Dopo la riunione di ieri del Partito Democratico, che ha visto coinvolti i dirigenti territoriali del provinciale di Peselurbino e delle Marche, il PD lancia ufficialmente la sfida alle regionali, parlando di un partito unito e rafforzato, soprattutto a fronte dei risultati amministrativi nel Pesrese, della recente conferma della provincia e del successo europeo di Matteo Ricci, che lo rende indirettamente, ma nemmeno troppo, un eventuale candidato ideale per la sfida delle regionali. Questa conferenza stampa avviene il giorno dopo di una riunione importantissima che abbiamo fatto al partito, cioè delle assemblee congiunte provinciale e unione comunale Pesaro, dove il partito a tutti i livelli, dico a tutti i livelli perché era presente anche il partito regionale con la vice segretaria Bello Maria, visto che la nostra segretaria Bonprezzi è impegnata per lavoro fuori regione. Quindi è una posizione del partito a tutti i livelli unitaria su quello che abbiamo discusso. Ovviamente dopo le elezioni europee e poi la conferma dell'ottimo risultato delle elezioni provinciali, posso dire che l'aria è completamente cambiata. E' cambiata perché c'era prima di queste tornate elettorali la consapevolezza da parte nostra e da parte di tutto il centro-sinistra di una regione contendibile, visto lo scarso lavoro, gli scarsi risultati e i danni che Acquaroli ha fatto anche e soprattutto nel nostro territorio. Rilanciamo il modello Pesaro perché in qualche modo è quel modello che fa paura alla destra, che si sta rappicando su tutto pur di mettere in cattiva luce, anche con l'utilizzo di una campagna mediatica superficiale, sta mettendo in cattiva luce tutta la buona azione del governo che noi in queste due assemblee congiunte abbiamo voluto rilanciare perché ci aspetta un traguardo importante in cui pensiamo di avere carte, persone in regola per competere. Partito Democratico che in occasione della conferenza si sofferma anche sullo scandalo che riguarda opera maestra e stella polare che di conseguenza ha travolto anche il comune di Pesaro. Fulvi e Bellucci però ribadiscono l'estranietà dei dem alla vicenda, la loro fiducia nella magistratura e puntualizzano di come il tutto sia nato in contemporanea alle voci di una possibile candidatura di Ricci per la presidenza della regione Marche. Noi diciamo che la cosiddetta affidopoli non esiste, c'è un'indagine che riguarda Santini e siamo noi che vogliamo sapere che cosa è successo. Ora è chiaro che il lavoro della magistratura deve essere svolto nella maniera più serena, tant'è che noi abbiamo anche aspettato a uscire pubblicamente perché non volevamo fare né confusione né interferire in nessun modo, però ecco siccome ultimamente parlano anche le Cicale è giusto che il Partito Democratico dia il suo contributo. Quindi massima fiducia nella magistratura e anzi auspichiamo che tutto questo percorso e questa indagine e questa verifica della situazione possa avvenire in tempi più brevi possibili e massima solidarietà, sostegno e fiducia nei nostri amministratori. Non riguarda i nostri amministratori che stanno collaborando nel migliore dei modi con gli inquirenti, riguarda un altro soggetto e noi vogliamo sapere che cosa è successo. Per cui è chiaro che la circostanza della partenza di questa campagna di delegittimazione di tutto il lavoro dell'amministrazione comunale parte dopo due risultati straordinari per la nostra città perché non ci nascondiamo che l'elezione di Biancani al 60% è un risultato straordinario e lo stesso voto plebiscitario direi. Pensate che un elettore del PD su tre nelle Marche ha dato come preferenza a Matteo Ricci. Chiaramente c'è stata un'investitura su questo personaggio politico della nostra città che dimostra di avere tutte le carte in regola per il futuro della nostra regione.